Ciao, sono Nana e benvenuti nel mio canale TIRUL HABUNNAN! Oggi vi mostrerò una ricetta street food tipica della Corea del Sud che si chiama hot dog o pancakes ripieni Questa volta vi mostrerò una versione dolce con zucchero di canna In Asia ci piacciono le cose un po' chewy, quindi un po' glutinose per questo ci sono anche persone che usano un po' di farina di riso dolce però siccome è un po' difficile da trovare in Italia ho semplicemente usato farina 00 poi ho impastato la pasta un po' di più And that's it, let's get cooking! E' un po' di più Allora! Allora, vi mostrerò una ricetta di canno Aprende c'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.